Quando si sceglie un'auto elettrica, il primo pensiero di ogni automobilista è di informarsi su dove trovare aree dedicate al rifornimento, soprattutto in occasione di lunghi viaggi, così da spostarsi senza preoccupazioni. Per questo motivo in questo articolo abbiamo riassunto dove sono le colonnine elettriche in autostrada, così da renderti il lavoro più facile. Mappa colonnine elettriche, dove sono in autostrada. Sapere dove sono le colonnine elettriche in autostrada è un'informazione fondamentale per chi ha scelto di guidare un'auto a batteria, in modo da poter pianificare il viaggio con serenità, evitando ogni genere di rischio legato a rimanere scarichi per strada. Se in città è sempre più semplice ricaricare il proprio veicolo elettrico grazie alla presenza di un numero crescente di colonnine, in autostrada il discorso può essere diverso, il numero di punti di ricarica per auto elettriche, nonostante sia in crescita costante, è nettamente inferiore al numero di distributori tradizionali di benzina e diesel. La situazione è però destinata a cambiare nel prossimo futuro. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, detto anche Recovery Plan, prevede infatti 750 milioni di euro destinati alla creazione di 7500 punti di ricarica rapida nelle strade ad alto scorrimento, come autostrade e superstrade e 13.755 punti di ricarica nelle città. In attesa che la situazione migliori ulteriormente, dove puoi trovare ora le colonnine di ricarica in autostrada? Scoprilo nel nostro elenco aggiornato al 2023, Autostrada A1, Autostrada del Sole, Milano, Napoli, Secchia Ovest, fino a 300 Kilo Et. Secchia Est, fino a 300 Kilo Et San Zenone Ovest, fino a 300 Kilo Et San Zenone Est, fino a 300 Kilo Et Conero Ovest, fino a 300 Kilo Et Arda Ovest, fino a 300 Kilo Et Flaminia Est, fino a 300 Kilo Et Giove Ovest, fino a 300 Kilo Et Arno Ovest, fino a 300 Kilo Et Teano ovest, fino a 300 km autostrada A4, Torino, Trieste e Brianza Nord, fino a 300 km Brianza Sud, fino a 300 km Monte Baldo Ovest, 4 colonnine fino a 11 km Tesina Est, una colonnina fino a 22 km Limenella Ovest, una colonnina fino a 50 km Fratta Nord, una colonnina da 75 km Fratta Sud, una colonnina da 22 km Gunars Nord, una colonnina da 75 km Gunars Sud, due colonnine da 60 km Autostrada A22 del Brennero Plessi Museum Alpasso, del Brennero, 16 colonnine Tesla, un ultra rapida da 150 km, un charger multistandard rapida da 50 km e un charger avanti Cristo da 22 km Stazione Autostradale Bressanone, Val, Pusteria, due charger multistandard rapida da 50 km Paganella Est, due charger multistandard rapida da 50 km Paganella Ovest, due charger multistandard rapida da 50 km, un charger avanti Cristo da 22 km Nogaredo Ovest, due charger multistandard rapida da 50 km Nogaredo Est, due charger multistandard rapida da 50 km Trovereto Sud, due charger multistandard rapida da 50 km, un charger avanti Cristo da 22 km Stazione Autostradale Affi, 16 colonnine Tesla, un charger multistandard rapida da 50 km, un charger avanti Cristo da 22 km Mantova Nord, due charger multistandard rapida da 50 km, un charger avanti Cristo 22 km area di servizio Po Ovest, due charger multistandard rapida da 50 km, un charger avanti Cristo 22 km Autostrada a 25, Torano, Pescara Montevelino Nord e Sud, doppia presa tipo 2 Cheroga fino a 22 km Brecciarola Nord e Sud, doppia presa tipo 2 Cheroga fino a 22 km Autostrada a 26, Genova, Gravellona Toce Monferrato Est e Ovest, fino a 300 km Autostrada a 57, tangenziale di Mestre Bazzera Nord, una colonnina, Output Power KW 4350, Maximem Output Power KW 93 un consiglio Due punti questo elenco è stato aggiornato a gennaio 2023 Prima di metterti in viaggio, verifica queste indicazioni e controlla se ci sono modifiche o aggiornamenti sulla tratte che percorrerai, in modo da non incorrere in sorprese In ogni caso, ricorda che in aiuto a chi cerca colonnine elettriche in autostrada arrivano anche le numerose app messe a disposizione, da sviluppatori terzi e dai gestori stessi facilmente scaricabili dagli store digitali di riferimento, Android e iOS, oltre a Google Maps Su Brum Brum sono disponibili un'ampia gamma di auto usate di alta qualità, comprese le auto elettriche usate, basta utilizzare la funzione di ricerca per trovare quella che ti piace e poi comprarla online, anche con finanziamento fino al 100% Acquistare la tua prossima auto su Brum Brum è facile, ma riceverla lo è ancora di più Puoi ritirarla presso la nostra factory di Reggio Emilia o in uno dei tanti centri convenzionati in tutta Italia oppure puoi scegliere di riceverla a casa tua